Benvenuti da Nardelli Sport, oggi per l'angolo tecnico vi presentiamo lo sci iRace Pro di ED, uno sci di alto livello dedicato al buon sciattore che ricerca performance, grande tenuta e ottima stabilità. Le caratteristiche che lo porta ad essere un ottimo sci è la sua costruzione a sandwich per cui legno come nucleo, titanal e il grafene, un materiale che aumenta la sua rigidità per aumentare stabilità e tenuta. La sua sciancratura facilita la sciata soprattutto sui raggi intermedi aumentandone così la maneggevolezza. La piastra e l'attacco di derivazione racing permettono di avere un maggior feeling, una conduzione maggiore e una stabilità ad alte velocità. Tutte queste caratteristiche hanno portato questo sci a ricevere sempre i migliori punteggi nei vari test effettuati sulla neve. Nella Nardelli è tutto, arrivederci alla prossima puntata.